buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è martedì 24 ottobre 2023 chi è il santo che si festeggia oggi vediamo di chi è l'onomastico e sfogliando l'almanacco del giorno troviamo sant'antonio maria claret vescovo visse nel diciannovesimo secolo è un spagnolo è nato a saliente in provincia di barcellona fondò la congregazione dei missionari dell'immacolato cuore di maria fu un apostolo della penna fondò anche una tipografia perché pensate stampò 50 edizioni in catalano e 69 in spagnolo di un'opera da lui composta per cui divenne famoso si tratta della via retta e sicura per andare in cielo dunque un itinerario da seguire sulle orme di sant'antonio maria claret che ci porta alla salvezza insomma questo è un po il suo indirizzo ed ora vediamo le previsioni del tempo abbiamo un tempo altalenante un tempo incerto sulla regione ma con una prevalenza di bel tempo anche se nel nord insomma sta arrivando la bassa pressione nubi irregolari sulle marche con un basso rischio di pioggia forti venti da sud in appennino le massime sono in ascesa ebbene sono cresciute le temperature massime dalla ieri erano 20 21 gradi ora le previsioni indicano 27 gradi come massima la minima invece piuttosto bassa 14 gradi ma ormai l'abbiamo lasciata perché si è verificata durante la notte il mare è molto mosso il tempo dunque ancora oggi è abbastanza accettabile e allora apriamo i giornali vediamo la pagina di apertura del corriere adriatico si parla di terme di carignano una non notizia qualche volta fa notizia perché veramente il silenzio uso una parola ormai abusata un silenzio assordante che caratterizza il progetto di questo nuovo complesso che dovrebbe sorgere con tante speranze con tante sollecitazioni da parte della città nella piana di carignano ma al momento non si sa nulla il giornale ha interpellato e l'avvocato natali che è il portavoce della società del gruppo romani che ha fatto questo grande investimento ma la risposta è stata semplice no comment e allora perché c'è questo silenzio dopo il gran parlare che si è fatto con l'inizio di questo progetto pensate domani ricorre un anno da quando il progetto fu presentato nella sala del cinema masetti con grande entusiasmo da parte della cittadinanza era un bel progetto è un bel progetto un progetto che si inserisce in maniera discreta nell'ambiente un progetto che presenta tantissimi servizi e può dare veramente una scossa alla economia locale peccato che ancora non si sa nulla questo ovviamente non vuol dire che ci sono perse tutte le speranze ma certo insomma sarebbe interessante fare un aggiornamento di quanto accade e questo lo richiede anche l'opposizione lo richiede innanzitutto il vice sindaco il quale dice che dal momento che da allora non c'è stato più alcun incontro con le terme e dicevo lo suggerisce anche l'opposizione con stefano pollegioni che sollecita appunto la società a dire qualcosa a fomentare la speranza che questo progetto venga realizzato e poi si parla di fanghi di fanghi del porto di fano fanghi che sono stati stoccati nella darsena in riva la darsena del porto stesso e nella terreno nella superficie di fantasy world a torrette sono ormai molti anni che questi fanghi che avrebbero dovuto stare pochi mesi per poi essere stoccati in una cassa di colmata rimangono invece in sito e allora il vice sindaco cristian fanesi ieri ha fatto una conferenza stampa per rendere pubblico l'appello fatto alla regione marche perché questi fanghi vengano finalmente trasferiti nel punto dove ne sono devo dove devono essere depositati e il comune chiede all'autority di anconia di accogliere i depositi di fano e torrette e poi vediamo questa bella azione fatta dai carabinieri di fano in ordine al mantenimento dell'ordine pubblico in città ordine pubblico messo un po so quadro negli ultimi tempi da bande di ragazze dei ragazzi che stanno facendo veramente troppo vivaci che disturbano la quiete notturna che sono interpreti di atti di vandalismo chiasso e vandali il blist dei carabinieri tre ragazzi con l'ascis uno a 16 anni controlli nei quartieri di poderino e san lazzaro in modo particolare a poderino dopo che la cittadinanza si è ribellata ad uno stato di fatto che insomma mette a suo quadro il quartiere in modo particolare il sabato sera e poi anche a san lazzaro e allo sport park i giovani sono stati segnalati come consumatori quelli trovati in possesso di droga movida fanese tenuta d'occhio dai carabinieri che durante lo scorso fine settimana hanno effettuato controlli a tappeto in luoghi e locali frequentati dai giovani trovata qualche dose qualche dose scusate tra fumo ed erba più uno spinello un 25enne è stato sorpreso mentre disattendeva il daspo urbano un'automobilista guidava con l'alcol in corpo la patente gli è stata ritirata oggi inizia la 35esima edizione del fano international film festival inizia al teatro masetti vediamo questo articolo pubblicato dal corriere adriatico fano film festival ricerca di visioni e linguaggi da oggi la 35esima edizione al cinema masetti 2200 film in concorso venuti spediti al fano international film festival da 100 nazioni diverse veramente una accoglienza una notorietà questa iniziativa che è dilagata in tutto il mondo 100 paesi del mondo ebbene ovviamente ne sono stati selezionati dal direttore artistico fiorangelo pucci una cinquantina oggi questa sera si inaugura al masetti con la proiezione del lungometraggio perché anche i lungometraggi da qualche anno hanno fatto parte di questa festival dedicato in prevalenza ai cortometraggi e poi ci saranno tutte le proiezioni che si dilungheranno per cinque giorni fino a sabato prossimo in orari inconsueti perché da domani si inizia alle 19 ovvero nel tardo pomeriggio e poi c'è anche una proiezione a mezzanotte e una addirittura alle 6 di mattina quella di domenica prossima con colazione incorporata ebbene questa è una grande occasione per vedere un po la filmografia di tutto il mondo ci sono veramente molti temi che vengono trattati e l'identità sessuale l'accettazione l'abbandono l'invecchiamento la rassegnazione l'inclusione ma alcuni di queste tematiche risolte anche in maniera lieve giocosa e ironica non solo drammatica si parte dunque questa sera alle 21 e 15 l'ingresso è libero quindi chi vuole passare una bella serata al cinema può farlo tranquillamente vediamo le altre notizie il manfrini passa alla proprietà del comune ieri la firma dell'atto un atto storico questo per la città di fanno questo grande immobile che risale alla metà poco dopo la metà del 1800 era il primo asilo che il sindaco di allora gabriele gabriell angelo gabrielli aveva realizzato fuori delle mura per dare un sostegno alle famiglie dei pescatori i cui mariti erano in mare e le donne per far quadrare il bilancio familiare lavoravano in filanda quindi uno sostegno sociale di grande importanza poi con l'andare del tempo questa grande struttura si è qualificata perché nel 1909 sono fatti anche dei miglioramenti di carattere strutturale e poi ha avuto altri usi finché è stata abbandonata abbandonata da diverso tempo era il 1970 mi sembra 96 nel 1996 è stata dichiarata inagibile ed allora insomma si è degradata ora il comune con l'acquisizione da parte del demanio di questo bene potrà ristrutturarlo investimento è di due milioni di euro e ieri appunto il sindaco con l'assessore cucchiarini la presidente del consiglio comunale cecchetelli insomma poi tutti gli altri tecnici che hanno collaborato a questa realizzazione ha presentato il progetto che è stato realizzato redatto dall'architetto sergio del rico vediamo le altre notizie passiamo a fossombrone fiancati del ponte a rischio quel bel ponte che attraversa il metauro con un grande arco che rende suggestiva l'immagine di fossombrone occorre la manutenzione delle fiancate c'è stato un sopralluogo fatto da due esponenti due consiglieri comunali di fratelli d'italia nicola luzzi e davide manocchi che hanno accompagnato il consigliere provinciale domenico carboni nel sopralluogo di questo ponte e sono state individuate alcune alcuni problemi appunto nelle fiancate e quindi merita un intervento di cura e manutenzione a marotta scogliere e lavori per 3,5 milioni un investimento considerevole per la cittadina adriatica è stato annunciato questo investimento dal sindaco nicola barbieri il cantiere inizierà all'inizio di novembre il sindaco annuncia un intervento senza precedenti per marotta veramente un intervento considerevole e poi è grazioso anche questo articolo a fondo pagina ebbene il natale siamo a ottobre parlare adesso di natale ancora forse prematuro ma natale non è molto lontano e per prepararci alle feste di natale è bene attivarci per tempo così si attiva per tempo mondolfo che organizza la festa dei birocini birocini di natale aperte le adesioni alle gare ebbene chi intende costruire questi birocini che sono fatti in maniera artigianale ma sono veramente curiosi perché poi c'è chi li fa con duto materiale con una determinata dinamica insomma la corsa è un momento di divertimento ma anche di soluzioni tecniche e la proloco proprio in vita ad avviare i cantieri per la costruzione di questi i birocini giriamo la pagina siamo a senigallia vediamo l'articolo che si riferisce alla cronaca all'ordine pubblico una coppia di clienti fa il suo nome in manette la pusher della movida ebbene una spacciatrice di droga una donna di 40 anni una donna di 40 anni che nascondeva nella sua abitazione cocaina mescolata caffeina denunciati i due acquirenti cocaina tagliata con la caffeina per lo sballo della movida entrambe le sostanze sono state sequestrate dalla polizia che ha assicurato alla giustizia tre persone la quarantenne che è stata arrestata mentre una coppia un uomo e una donna è stata denunciata per detenzione di droga ai fini di spazio insomma sono queste le il successo ottenuto dalle forze dell'ordine e vediamo anche l'apertura dedicata dal corriere adriatico alla pagina di pesaro annuncia una interessante novità per i pesaresi non solo per gli abitanti del capoluogo ma anche un po per tutti coloro che vivono nel circondario con la centrale del 118 a villa fastigi nasce il polo delle emergenze nel giro di un anno questa è la durata della consegna dei lavori il 118 di pesaro avrà finalmente una nuova funzione e una nuova sede operativa sarà in via dei cacciatori a villa fastigi nello stesso edificio che attualmente ospita la sala operativa integrata della protezione civile ieri mattina c'è stata la consegna di questo cantiere per la riqualificazione sismica ed energetica della struttura un intervento di circa 2 milioni 1 milione e 800 mila euro di cui 211 mila derivanti dagli incentivi ministeriali insomma c'è stato un apporto considerevole da parte del governo ma questo fa sì che tutta l'assistenza dell'emergenza che è la cosa in più importante perché il primo passo di assistenza di cura per chi si sente male pensate agli infarti pensate agli ictus pensate a queste cose che necessitano di un intervento immediato di soccorso ebbene qualificare le emergenze è di grande importanza e poi c'è un'altra emergenza un'altra emergenza che è quella abitativa tutto il territorio pesarese è considerato un territorio ad alta emergenza abitativa c'è bisogno di case ebbene questa volta ci sono 11 milioni di investimento per il restauro e la realizzazione di alloggi ebbene sono fondi del pnr e del pnc che verranno utilizzati per costruire nuovi appartamenti o per restaurare gli attuali investimenti che verranno fatti a roncaglia a borgo santa maria a santa marina bassa a fiorenzuola di focara lungo la stata lungo la strada statale adriatica e poi a monte ciccardo a monte ciccardo dove verranno realizzati tre alloggi in via marconi quindi un investimento molto gradito ovviamente da chi in questo momento vive in un'abitazione che certo non è decente rischiò incidenti all'uscita da scuola genitori disattenti occorre più prudenza dai dirigenti sono state spedite delle lettere per invitare una maggiore cautela e pesaro 30 chiede le zone scolastiche zone dove il rispetto della velocità delle norme del codice dovrebbe essere più stringenti dove i pericoli sono più incombenti e quindi occorre più prudenza tanti troppi incidenti che vedono coinvolti i pedoni anche quelli che attraversano la strada sulle strisce la prudenza la guida è sempre una cosa necessaria ad esempio nei pressi delle scuole soprattutto negli orari di entrata e di uscita degli studenti e occorre tanta tanta attenzione ed è di pochi giorni fa l'investimento della maestra sulle strisce in via fermi sotto gli occhi dei bambini che andavano a scuola una maestra che attraversava appunto la strada nel percorso a lei indicato la regione destini più risorse agli asili il nuovo appello dell'amministrazione comunale dopo che le mamme hanno manifestato a loro necessità dopo essere state escluse dal servizio di asilo nido dopo la protesta per i bimbi fuori dalle graduatorie intervengono mattioli e vitri e quindi si sollecita la regione a soccorrere il comune di pesaro intanto a monte granaro si sposterà l'antenna tutto il territorio è un fiorire di proteste di indicazioni di manifestazioni per limitare il proliferare delle antenne o meglio bisognerebbe trovare un posto perché poi queste antenne sono necessarie per garantire la funzionalità delle comunicazioni tutti noi vogliamo che il nostro telefonino il cellulare funzioni però insomma ci lamentiamo se poi l'antenna è vicino a casa vicino alla nostra abitazione occorre un piano delle antenne un piano che cerchi di individuare i migliori siti meno impattanti meno pericolosi per la salute umana dove installare questi impianti a monte granaro si sposterà l'antenna ma a fiorenzuola resta il cotton fioc così viene denominato questa antenna perché insomma nella sua sommità ha una specie di batufolo che ricorda il cotton fioc verrà però rimosso il cilindro in base alle indicazioni emerse dal tavolo tecnico del comune polab e quartieri sarà dunque presto smantellata l'antenna della discordia e poi anche noi abbiamo espresso il cordoglio per la morte di questo ragazzo 19 anni mattia tancini deceduto in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella notte di sabato scorso mentre tornava a casa erano le 3 e 30 appunto in piena notte forse un colpo di sonno che gli è stato fatale ieri si sono celebrati i funerali ad urbania urbania è veramente in lutto perché poi sono accaduti è caduto un altro incidente quindi due incidenti nella stessa giornata nella stessa nottata travolta e uccisa sulle strisce domani l'ultimo saluto ieri sono svolti i funerali di mattia nel duomo invece domani saranno celebrati i funerali di luciana ben nati morta mentre attraversava la strada sulle strisce travolta da un'auto guidata da un 76enne la stessa età che aveva la vittima l'automobilista è indagato per omicidio stradale anche qui grande grande cordoglio per questa donna che era che era pensionata ed ex titolare insieme al marito deceduto qualche mese fa del supermercato vege appunto ad urbania giriamo ancora le pagine siamo nella pagina di urbino vediamo che c'è una manifestazione si tratta del carrer day tutte le opportunità illustrato l'indirizzo diplomatico è ufficialmente iniziata ad urbino la settimana clou per l'università per promuovere l'incontro tra studenti e aziende ospiti dell'università due dirigenti della farnesina il rettore incontri fondamentali e con questa notizia chiudiamo il corriere adriatico e apriamo il resto del carlino dove l'apertura è dedicata al blitz dei carabinieri compiuto nel fine settimana scorso droga nel videogame in borsetta blitz dei carabinieri nelle zone calde controlli effettuati a san lazzaro al poderino e anche nella zona limitrofa allo sport park dove i cani hanno fiutato marihuana occultata in una macchinetta e poi insomma quando hanno visto arrivare i carabinieri le macchine con le lampeggianti gli uomini in divisa c'è stato un fuggifuggi tra i quartieri i ragazzi hanno cercato di disfarsi delle sostanze poi rinvenute tra i cespugli e ieri è stata presentata anche una iniziativa di carattere ministeriale che è stata fatta propria anche dal comune di Fano si tratta dell'ottobre dedicato non solo alla prevenzione del tumore al seno come abbiamo visto in seguito alla grande camminata che ha caratterizzato la domenica scorsa con una partecipazione grande 1300 persone ma il mese di ottobre è anche il mese dedicato al al bilancio a far quadrare i conti delle famiglie ci sono tre incontri che vengono organizzati dall'assessorato alle finanze insieme appunto a diverse collaborazioni si parte domani mattina a 10.45 nella chiesa del gonfalone con gli studenti del polo 3 chiamati a partecipare alla creazione di impresa insomma l'attivazione delle start up ovvero quelle piccole imprese che introducono i giovani nel mondo del lavoro facendo loro conoscere i rischi di impresa come si fa le modalità per attivare insomma per introdurli nel mondo del lavoro e poi vediamo che ci saranno anche altri incontri dedicati alle imprese stesse e anche alle famiglie per cercare di sollevarle quando capita dalla crisi dell'indebitamento ovvero quando una ditta oppure quando una famiglia non riesce più a pagare i conti come può fare per riuscire da questo stato di crisi ebbene un articolo interessante ma soprattutto sarà interessante partecipare a questi incontri che vengono organizzati appunto a partire da domani mattina e passiamo a dalle altre notizie c'è anche un articolo che riguarda il successo ottenuto dalla camminata in rosa che è successo la prevenzione fa passi avanti oltre 1300 persone hanno preso parte all'iniziativa per sensibilizzare la prevenzione al tumore al seno tiriamo ancora la pagina e vediamo l'articolo che riguarda i fanghi dimenticati da 11 anni nel porto di fano e nella zona di fantasy world a torrette dalla regione neanche un'idea ma cosa si aspetta a spostare questi fanghi benedetti questa cassa di colmata che dicono tutti che è pronta che è disponibile perché non viene riempita è un punto interrogativo che l'assessore fanesi propone alla regione e attende una risposta e intanto il governatore acquaroli blinda la giunta ma sulla candidatura di aguzzi c'è il placet verso il voto per quanto riguarda il toto sindaco per le prossime elezioni il asilo manfrini ora appartiene al comune qui vediamo il momento della firma dove il sindaco massimo seri propone appunto la sua firma nell'atto di acquisizione e qua accanto a lui vediamo il delegato dell'agenzia del demanio che cede questo bene appunto al comune di fano in maniera gratuita passiamo a monteporzio a monteporzio inquilino se ne va ma si porta via i mobili è successo a monteporzio alla sbarra per appropriazione in debita un settantenne di montegranaro che però è irreperibile beh insomma ha finito il suo contratto oppure è andato via ma non è andato via così è andato via anche portando a visire tutto quello che c'era dentro e non era di sua proprietà e poi a urbino ospedale va tutto male punto interrogativo no vi spiego il perché parla così elisabetta foschi che assessore comunale alla sanità sono stati fatti degli investimenti dice elisabetta foschi ci sono strumenti nuovi dobbiamo vigilare sul pronto soccorso che è il punto più debole appunto dell'ospedale e poi ancora il partito democratico è molto critico il futuro è nebuloso giorgio baldi ci sono meno soldi e le promesse elettorali non stanno concretizzando alla sanità servono certezze e soprattutto il fatto di un'evidenza conclamata quello delle lunghe prestazioni per quanto riguarda le visite per quanto riguarda gli esami le liste di attesa e insomma sono il punto debole e anche i punti di pronto soccorso di tutta la sanità regionale giriamo ancora la pagina e parliamo della guinza e soprattutto della pedemontana siamo all'apertura delle buste torna il vecchio tracciato che unisce Ascoli Piceno su fino a Pennabilli ovvero verso la Romagna passando accanto agli appennini ebbene una strada molto importante in alternativa alla statale 16 adriatica addio al partigiano Maffeo Marinelli ad Urbino è morto a 98 anni a pochi giorni di distanza da un altro protagonista gli abbiamo dato l'addio nei giorni scorsi della resistenza amato Antonelli e poi anche sul resto del carlino si dà l'addio a Mattia Tancini guardate la folla che ha assistito ieri ai suoi funerali che si sono celebrati nella cattedrale di Urbania e anche qui a fondo pagina travolta sulle strisce aveva appena preso il caffè con le amiche e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento augurandovi una buona giornata a domani alle ore 7 a risentirci Grazie a tutti